Eccoci qua, eccoci qua, ciao a tutti, mi chiamo Giovanni Casadei in Arte Crapac e oggi sto andando a suonare a Urbino è il 17 ottobre e andrò a suonare a Urbino alla festa delle matricole, praticamente credo sia una festa tipo per gli universitari e suoneremo in piazza della repubblica, io e il mio amico Principo, cosiddetto Gabriele Montebelli ormai comparso in tutte le mie cose musicali e questa sera ci sarà anche un altro amico che suonerà con noi qualche pezzo sogniamo un'ora dalle 9 alle 10 e speriamo ci sia un sacco di gente, speriamo di divertirci ci sono stati un po' dei casini con il fonico, robe così, però dovremmo aver sistemato tutti quindi speriamo e niente, adesso andrò a prendere il mio amico Gabriele Montebelli che lavora a Morciano pensa che fa le marmellate in una cooperativa sociale siamo qua che si va a Urbino fa la corda che cosa stiamo chiamando vlog parte 2 allora Principo cosa ti aspetti da la sanata? mi aspetto tutto temo, temo ok sono qui con il Principo stiamo andando a Urbino il Principo lo vedo bello tranquillo che è lì, che messaggio su Insta che anche gli scrivo le persone dicono no Principo ti spesso stasera le persone a casa stiamo andando a Urbino stasera si suona è così insomma siamo qua a Urb siamo arrivati a Urbino allora adesso vi devo spiegare una cosa intanto questa qui è tutta la strumentazione bene, c'è anche la skater ma dovete sapere che Gabriele Montebelli prima che noi suoniamo ha le fasi lunari no? ha la fase dove è tranquillo, ha la fase dove mangiare un gelato dove vuole vedere Ali un film tranquillo a casa, sciallo, polleggiato ha la fase che è Bolsonaro ha la fase che schizza ha la fase incaffitata ha tutte le fasi nel mondo poco buone femmine quando sempre arriva le loro cose te cosa dici Principo? spaccare tutto che è di spacco? spaccare tutto spagliare spette allora sono qua con il Principo PM cosiddetto pigliato male come sempre ciao ragazzi io sono Sinafaz facciamo un applauso a Gabriele Montebelli grazie a Sinafra bravo a Davide pesca Grazie a tutti. 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 Urbino fatto, V, seconda tappa del tour. Grazie a tutti.